La Torre dei Picentini, ristorante, pub, pizzeria, pre-pezzano di Giffoni Secasali. Abbiamo avuto l'occasione importante con Germano a tu per tu, abbiamo avuto altre tre o quattro situazioni dove potevamo finalizzare. Devo fare un plauso ai miei giocatori perché abbiamo veramente oggi fatto la partita al di là della gestione tecnica da squadra di carattere. Avevamo tantissime assenze, durante la partita sapevamo che saremmo potuti andare incontro a difficoltà perché c'erano molti giocatori che non giocavano da quattro mesi, da cinque mesi.